Ettore, che gara è stata per te? Bellissima, è stata molto bella, molto dura, ma bella, molto bella, come al solito Roma non tradisce mai. Sei andato come ti aspettavi? Meglio, meglio di quanto aspettassi, è andata benissimo. Senti, ci sono diverse maratone, la maratona di chi arriva in 2.27, vuoi dire qualcosa a chi arriva invece in 5 ore? Allora, io ricordo con più emozione la prima che ho fatto, in cui sono arrivato in 3 ore e 45, lì mi sono commosso e ho telefonato a casa per dire l'ho finita. Quindi la maratona è comunque una gioia, sia che la fai in 2.26, sia che la fai in 5, è uguale, anzi.